Sì, sì, gliel'ho già detto. Sono poco grandino. Ciao Matteo, ciao, nome e cognome in camera? Luca Chrovatin e email? L.chrovatin.alice.com Ok, molto bene. Ok, allora, quello di frene, ci sei? Sì. Andiamo un po' di gas indietro. Vai, così almeno passiamo. Vai, vai, andiamo un po' di gas. Vieni, 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 vieni. Ancora, 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 ancora. Ancora, 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 ancora. Ok, prima. Gira tutto lo sterzo. Tutto devi fare un po' di fatica perché non ha servo lo sterzo. Vai, 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 ci passi. Ok, lascio un po' di margine. Allora, la usiamo come la vogliamo usare? Manuale o in automatico? Provo manuale. Ok. Allora, ascolta bene le mie indicazioni, ragazzi, perché state facendo tutti un po' di casino qua in pista. Quando ti dico di frenare, freni, quando ti dico di accelerare, accelerare. Non ha il servo freno, quindi tanta pressione sul pedale del freno e mi raccomando il servo sterzo. Che non ce l'ha, ovviamente, quindi bello, bello diretto. Quando vuoi, vai. È già guidata questa? No. La 4C mi mancava. Ok. Quarta. Ok. La terza. Dentro pure. Vai, tranquillo. Non arriva nessuno. Vai. Giù tutto il gas. Quarta. Quinta. Vai a frenare a cartello di 100, che è il secondo cartello all'avanti. Vai, non ciò la ruota. Prena. Tanto preno. Vieni la marcia. Però fai scala anche le marci. Ok. Gas, una marcia, dai. Terza. Vai, ridiamo gas. Via. Quarta. Stiamo verso sinistra. Frena tenendo questa marcia. Basta freno. Dentro subito. Ridai gas. Quarta. Stiamo verso sinistra. Frena tenendo questa marcia. Vai. Frena terza. Frena via marcia. Terza subito. L'altra volta descalzo. vieni giura bene vai vai accelera pure vieni verso sinistra frena terza bravo cerca il cordolo subito sul secondo cordolo via gas tutta l'accelerazione quarta vieni dentro la quarta frenerei solamente frena leggero basta freno dentro puttela dentro puttela dentro ci sta la macchina vai verso sinistra facendo sul cordolo vai verso il secondo cordolo via giù tutto a gas adesso quinta vieni a frenare il cartello dei cento togliere una marcia vai vai avanti il cartello dei cento frena frena vieni la marcia vieni la marcia ok attenzione con la furva là è proprio strettissima di seconda frena tantissimo sei esterno frena frena vieni che stretta bravo la ricordano vai vai da subito sei tutta a destra ritarda l'ingresso frena leggero dentro arriva i gas vai 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 Allora Allora, rientriamo, forse a box Come, bello Sì Frena bene, frena bene, frena bene, frena bene Frena bene, come on Do you say? 300 Allora 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 Allora